emanuele di stefano allora sei uno dei protagonisti o meglio se di cui il leader dei protagonisti quindi il protagonista dei protagonisti segue le cose hollywoodiane megagalattiche di noi siamo leggenda e insomma questa nuova serie che tratta di superpoteri e tu tra tra tutto il gruppo dei ragazzi sei il primo insomma che ha a che fare con questa novità insomma e quindi come la prende innanzitutto massimo raccontiamo un po questo personaggio con sorpresa sicuramente massimo durante la storia ha tre fasi riguardo il suo superpotere la prima fase in cui sorpreso non sa come gestirlo poi pensa che il modo migliore per farlo sia utilizzarlo a fine vendicativo contro le ingiustizie che lui pensa tali la seconda fase di pentimento in cui si rende conto che le azioni le azioni che ha commesso hanno avuto delle ripercussioni sulla vita degli altri negative e la terza fase invece di accettazione in cui riesce a far coincidere una a far sposare una morale con questa sua nuova vita che poi si trova a vivere no questa condizione di diciamo di restare orfano e dover vivere tra l'altro con la zia interpretata da claudia pandolfi con la quale anche un rapporto conflittuale però tutto questo perché in generale la serie al di là del discorso dei superpoteri in realtà appunto non racconta come la marvel dei superpoteri per salvare il mondo ma dei superpoteri adattati alla vita quotidiana no è la difficoltà del passaggio della tra l'adolescenza ed ed adulta si li utilizza come metafora ogni ragazzo ora nel primo episodio che tu avrai visto si vede soltanto il mio superpotere cinque di noi hanno dei superpoteri e ogni ragazzo ha una difficoltà che viene espressa metaforicamente attraverso questa sua abilità massimo la rabbia repressa questa esplosione di fuoco dalle mani sofia gershevich che è interattata greta l'abilità di tornare indietro nel tempo perché sono accadute delle cose nel passato che la tormentano che vorrebbe riparare giulia lin che interpreta lin che ha soffre di bullismo e quindi il suo superpotere è quello di mutare forma e nicolò mappa che interpreta gianna che ha il complesso di non essere abbastanza forte di essere un innetto e quindi il suo superpotere sarà l'essere inscalfibile e milo rossello che invece la sua voglia è quella di essere un ragazzo normale il suo superpotere è quello effettivamente quello di milo con la metafora del suo problema non c'entra niente e poi c'è il povero giulio che invece non ha ottenuto nessuno è l'unico che resta senza è che però interpreta il tuo miglior amico quindi tra l'altro e ci ha raccontato insomma che anche il rapporto con te insomma si è si è rispecchiato in quello che che è stato il rapporto sullo schermo insomma non solo per il fatto di di stare più tempo a contatto ma insomma sei quello con cui no avete stretto più amicizia abbiamo stretto amicizia abbiamo stretto amicizia nonostante lui provi in tutte le interviste mi stupisco che non abbia fatto pure con te di silurarmi in qualche modo di buttare fuori qualcosa di imbarazzante che è successo sul set però abbiamo stretto amicizia no no non c'è non mi ha raccontato niente di di scabroso senti invece a proposito di di insomma di passaggio dall'etorescenza all'età adulta come è stata la tua fase e se sempre che tu l'abbia poi effettivamente completata questa fase non lo so se l'ho completata ma cioè mentalmente io ti direi o forse l'ho completata però può essere pure che fisiologicamente avendo 21 anni non è ancora arrivata a compimento come è stata o com'è è una fase è una fase che ti riguardi indietro e pensi mamma mia come ero stupido proprio decerebrato e vedi i ragazzetti che magari ora c'hanno 16 anni 15 anni dici oddio ma pure ero così mamma mia che e qui mi sono giocato tutto quanto il pubblico della serie praticamente e quindi è una fase che non è solo di cambiamento è proprio un salto di qualità incredibile vabbè quindi però insomma mi sembra che la consapevole a me è finita bene cioè il senso nonostante il travaglio poi andata ma anche perché tu hai cominciato a fare diciamo sto mestiere sin da giovanissimo quindi comunque probabilmente magari hai avuto anche un'adolescenza almeno da questo punto di vista un po più privilegiata rispetto da tanti altri e soprattutto rispetto ai protagonisti della serie no ognuno dei quali c'ha ferite e problematiche varie assolutamente sì ecco e quindi poi non è detto non è detto non è detto no stupido cioè in senso il fatto che io a 18 anni abbia iniziato a lavorare tre anni fa l'altro ieri non è scontato il fatto che il fatto che questo tipo di lavoro sia un lavoro che ti piace possa essere un lavoro leggero ma il fatto che comunque ti dia delle responsabilità e del un compenso emotivo e anche economico è una cosa che secondo me è come se metti un attimo l'asticella per far crescere più dritta la pianta però sappiamo che tu hai fatto vari provini no per vari ruoli non solo per quello poi di massimo e quindi poi alla fine come dire se è stato contento della scelta di massimo o magari a conti fatti che non so per un tuo motivo particolare o perché ti piaceva quel superpotere avresti voluto fare un altro dei ragazzi tanto ormai i giochi sono fatti lo possiamo dire sono rimasto boh cioè ho fatto il provino per marco che è il personaggio di giulio è ok poi ho fatto il provino per andrea che è il personaggio di milo è ok poi basta in mano che tu sei stato preso per massimo però insomma sei comunque il leader del del gruppo quindi diciamo che non ci possiamo fare no e adesso la serie che uscirà dopo sul rai 2 e replay anche su prime video quindi poi ti vedranno in tutto il mondo insomma che hanno già visto per i film chissà doppiato come soprattutto esatto io li volevo arrivare quindi come ti aspetti ti farà strano sentirti doppiato in altre lingue e soprattutto qual è la lingua in cui sei più curioso di di sentirti doppiato a me la lingua che fa più ridere c'è stato un film che ho fatto il film invisibile che è uscito sul netflix e quindi di conseguenza è stato doppiato in qualche lingua mi faceva riderissimo lo spagnolo ci stava questa scena in cui cantavo una canzone rap una canzone treppo prendendole in giro vengo dal ghetto ti metto sotto sono un cecchino e ti spara addosso rata tata e sembrava veramente di sentire speedy gonzalez gli spagnoli hanno questa dizione molto più velocizzata rispetto a noi no sei pronto per l'assalto dei fan di tutto il mondo perché poi inevitabilmente ti cominceranno a scrivere da ogni parte del globo è ma è impossibile che mi scrivano perché non ho social da quindi vabbè qualche modo troveranno una tua mail un qualcosa mandano lettere a casa ovviamente non possono chiederti come mai un ragazzo di 21 anni non ha i social cioè è una cosa tipica effettivamente no a me personalmente non piacciono non piacciono e penso che creino dipendenza in alcuni casi poi ovviamente poi come tutte le cose se utilizzate col giusto metodo no penso che creino dipendenza penso che sì il mondo social sia un punto fatto di interazioni che non sono quelle del mondo reale perché sono due mondi differenti ma le interazioni del mondo social non sono interazioni che mi piacciono ho capito quindi neanche un profilo giusto per lavoro per no no io a mia vista lo trovo un mondo tossico ho capito vabbè ognuno ha giustamente la sua la sua opinione va bene e invece dopo noi siamo leggenda dove altro ti vedremo nei prossimi mesi diciamo così visto che è sempre complicato no avere delle date prima ho girato al piccolo di milano già ho girato sono stato partecipe della messa in scena di romeo giulietta al piccolo di milano con la regia di mario martone sono state fatte le riprese rai quindi prossimamente uscirà sulla rai mentre in questi giorni ultimamente ho fatto una posa per chi non sapesse una cosa è una giornata di lavoro nel gergo attoriale del cinema per giulian schnabel regista fighissimo sembrava un buddha sul set per un film che è venuto a girare in italia con dei super attoroni e pure quello con uscita non convenuta e beh quindi insomma due nomi due registi mica da poco eh no no tu hai già comunque hai già dato insomma però eh sono due cose importanti che quindi speriamo di vedere presto salutiamo anche il nostro amico francesco che chi che era protagonista di di romeo giulietta ciao francesco ne va bene e allora eh visto che dobbiamo chiudere diamo l'appuntamento insomma quando è che si potrà vedere la serie allora ecco 22 sere in prima serata su rai due che anche il mio compleanno tra l'altro il mio regalo di compleanno è il tuo regalo di compleanno speriamo che ti piaccia e dalla mezzanotte del 22 quindi a cavallo tra 22 e 23 uscirà anche su rai play e amazon prima perfetto e allora grazie e ovviamente complimenti in bocca al lupo per questa nuova avventura in attesa di sentirti parlare spagnolo grazie grazie e complimenti in buona giornata